Sì, diciamo che sono sempre stato indipendente, Rocha Music è la crew, no? Ok Dove ci supportiamo a vicenda, ci spingiamo Discograficamente, diciamo, sono sempre stato indipendente Non ero sotto contratto Quindi adesso, ma l'amore è un album che ha anche quel timbro importante che è Universal, no? Sì, che per me è stata una soddisfazione più personale che lavorativa Perché dopo tanti anni di musica, di impegno e di sudore, no? Arrivare ad avere un team che crede nel tuo progetto e ti aiuta a fare il miglior risultato possibile È una soddisfazione grande Hip Hop TV, in onda su Sky, canale 720 e in free streaming su tutti i device su live stream.com Slash hip hop tv slash live